Sono grato a chi ha deciso di dare questo premio a me, devo ringraziare la società e i giocatori che mi hanno dato la possibilità di ricevere questo premio perché senza la società e i giocatori il giocatore fa poco e sono doppiamente soddisfatto perché lo faccio in Toscana, da Toscano, tornare in Toscana per ricevere un premio è un motivo di orgoglio doppio. Il timone d'oro ad Alessio Dionisi. Il prestigioso riconoscimento è stato infatti assegnato in questa edizione, quella della ripartenza dopo due anni di stop, ad uno dei tecnici emergenti del calcio nazionale, il trainer del sassuolo. Abbiamo dato a Dionisi perché è uno che ha vinto in cinque anni dalla quarta serie, ha portato l'Empoli in serie A, insomma noi premiamo anche gli allenatori emergenti e si spera di portargli fortuna. Dionisi ha chiuso questa stagione con un significativo decimo posto conquistato a suon di vittorie prestigiose tra cui quella spesa di Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio. È stata una bellissima esperienza, ora sono entusiasta di poter riapprocciare la seconda stagione, non vedo l'ora di riniziare anche se abbiamo appena finito. Ma io spero di ritrovare tutti e se qualcuno non ci sarà sarà ben sostituito, realmente l'obiettivo sarà quello in base alla squadra che avrò e avremo a disposizione di replicare il campionato fatto e magari anche migliorarlo, però ora è troppo presto, abbiamo appena finito e dobbiamo vedere come ripartiremo, con che ambizioni. Un riconoscimento speciale poi è andato anche a Maurizio Sarri. Che se lo merita perché in fondo è un nostro associato e dare un premio a Sarri ha vinto alla Juventus e per noi è un vanto. Infine un riconoscimento particolare assegnato alla squadra dell'Arezzo Calcio Femminile per il successo nel campionato di Serie C femminile.